buongiorno amici da massimo foghetti per la rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 14 ottobre 2022 e sono le 7.02 quindi abbiamo due minuti in ritardo cominciamo subito la nostra rassegna stampa sono preziosi e vediamo il l'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia un papa un papa che visse durante l'impero romano si tratta di papa callisto il nome significa in greco bellissimo dal suffisso cal che insomma lo vediamo anche con la calligrafia lo vediamo anche con delle creme di bellezza insomma papa callisto era bellissimo almeno così il nome voleva far intendere comunque c'è un particolare per cui è noto papa callisto è stato quello che ha dato il nome ad un grande cimitero ad una grande area cimiteriale della roma pagana e poi cristiana sulla porta di questo ingresso stava di questo cimitero stava scritto chi entra in questo cimitero contrito e confessato otterrà la remissione dei peccati per i meriti dei 170.000 martiri qui sepolti con 46 papi morti per essere molti per essere martirizzati per gesù cristo papa callisto costruì la basilica di santa maria in trastevere dopo dove poi fu seppellito e fu martirizzato dai pretoriani che dopo averlo ucciso lo gettarono in una cisterna dove da dove poi fu prelevato per essere sepolto appunto nella basilica da lui costruita detto questo passiamo alle previsioni del tempo vediamo la grafica sulla regione marche dove il tempo si mantiene all'insegna della stabilità con un cielo sereno o al più leggermente offuscato da delle velature insomma il tempo non cambia molto rispetto a ieri le temperature massime giungeranno sui 22 23 gradi le minime si sono fermate a 14 gradi perché ormai la minima è stata toccata i venti sulle coste spireranno da nord e nord ovest sull'interno con una tensione debole da nord e le temperature sono ancora in calo il mare è mosso ebbene ad ora diamo un'occhiata anche ad una immagine del nostro territorio e la regia ci fa vedere la spiaggia di senigallia è sempre bella l'immagine anche se non ci sono più gli ombrelloni non ci sono più i turisti comunque è un'immagine di liaca di tranquillità di pace di serenità e anche di bellezza ci ho detto diamo ora un'occhiata veramente ai giornali aprendo il corriere adriatico sulla pagina di fano e l'apertura è dedicata alla decisione del vescovo di chiudere la parrocchia di san marco una decisione storica pensate che la parrocchia di san marco era già attiva nel dodicesimo secolo c'è un refuso nell'articolo dove è sparita la x vediamo qui dice al secondo secolo ma in realtà è il dodicesimo secolo la parrocchia di san marco soppressa sia per la crisi delle vocazioni religiose così come mette in evidenza il titolo ma anche per la ristrutturazione di cui è oggetto tutta la diocesi di fano fossombrone cagli e pergola una ristrutturazione già in atto nell'entroterra dove molte parrocchie sono state accorpate e per esempio vediamo che a pergola fossombrone le parrocchie sono state già ridotte in maniera sensibile ed ora questo provvedimento si avvicina anche a fano e probabilmente la soppressione della parrocchia di san marco sarà il primo provvedimento non unico in questo articolo vengono spiegati i motivi lo fa don francesco pierpaoli che è il vicario della pastorale questa è la delega che ha ricevuto dal vescovo e vediamo come la crisi delle vocazioni ha fatto sì che oggi nella città nel comune di fano operino soltanto 14 sacerdoti al di sotto dei 60 anni gli altri sono anziani qualcuno è anche prossimo alla pensione e quindi occorre fare di necessità virtù e le parrocchie vengono assembrate vengono riunite e questo anche per motivi pastorali per motivi di evangelizzazione occorre trovare i catechisti occorre organizzare meglio gli aiuti alla popolazione sostenere le caritas parrocchiali insomma ci sono molti compiti oltre quelli cultuali che osservano le parrocchie vediamo ora le altre notizie aumenta l'indifferenziato utenti ora meno attenti è una dichiarazione una osservazione che ha fatto il presidente di aset paolo regginelli il quale ha osservato come la cittadinanza fanese che era molto attiva nella raccolta differenziata tanto che aveva raggiunto una percentuale ammirevole quella del 75 per cento ora si fa un pochino meno attenta e butta rifiuti più del passato nell'indifferenziato quindi che fa cernisce di meno divide di meno insomma divide meno la plastica da una parte i rifiuti metallici dall'altra la carta dall'altra parte butta tutto nell'indifferenziato butta tutto in più rispetto al passato e ora occorre fare una maggiore opera di sensibilizzazione ha detto regginelli e si guarda anche con interesse all'esperimento che pesa lo sta compiendo attivando i cassonetti intelligenti ovvero quelli fruibili con una tessera che permette anche agli utenti di pagare le bollette l'importo delle bollette in sintonia con la quantità dei rifiuti che vengono depositati nei cassonetti stessi un esperimento che l'ASET metterà in funzione anche nel prossimo novembre nel comune di San Costanzo sarà un comune indice un comune tipo per vedere poi come potrà funzionare estendendo l'esperimento in tutta la zona di competenza di ASET e quindi anche nella città di Fano fermo restando però che la bolletta manterrà sempre una base fissa quella necessaria per coprire le spese per lo spazzamento delle strade per la polizia dei mercati e per la polizia delle spiagge insomma qualcosa sta cambiando anche nella raccolta dei rifiuti diamo un'occhiata anche a quello che sta accadendo per aiutare gli alluvionati abbiamo visto come le banche hanno così attivato degli aiuti recentemente è stata anche la bcc di Fano che ha dato degli aiuti specialmente agli alluvionati di Senigallia Senigallia è una zona di competenza anche della banca fanese ed ora si organizza invece una maratona musicale per raccogliere dei fondi in favore di chi ha subito danni per le recenti esondazioni un mega concerto intitolato con il cuore nel fango lanciato per domenica prossima al fine di fare una raccolta fondi l'iniziativa si terrà alla rocca malatestiana dalle 14 alle 24 veramente è una non stop con tanti tanti i gruppi che si esibiranno guardate questo articolo questa questa parte di articolo è completa di tutti i nomi sono tantissimi e gli artisti che i gruppi e gli artisti singoli che si esibiranno in questo evento l'incasso della serata il biglietto costa 10 euro sarà dunque devoluto per dare sostegno a quelle comunità messe in ginocchio da un evento meteorologico così importante così drammatico come quello che si è verificato nelle nostre zone nel mese di settembre giriamo la pagina e vediamo quella di della Val Cesano dove si parla dell'iniziativa del FAI vediamo che a Pergola ci sono tre chiese che vengono poste all'attenzione del pubblico una è la chiesa delle tinte luogo del cuore da premiare dice il corriere adriatico grazie ai volontari saranno tre le chiese molto belle del centro storico aperte al pubblico tra queste non c'è però santa maria delle tinte perla della città e dell'omonimo quartiere che è stata gravemente colpita dalla alluvione nello scorso mese saranno invece aperte le chiese di san francesco di sant'orsola e di san vitale queste appunto le chiese che si potranno visitare domani e domenica dalle 15 alle 18 sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 in occasione delle giornate di autunno come dicevo organizzate dal FAI fondo italiano dell'ambiente sulla pagina di Senigallia vediamo come sarà di 76 milioni la cifra necessaria per coprire almeno parzialmente rimborsi dei danni subiti dagli alluvionati l'annuncio è stato dato dal presidente della regione acquaroli all'incontro a ostra con i sindaci della vallata sono stati stimati appunto in 76 milioni di euro dal governo i rimborsi per le spese di somma urgenza nell'alluvione in tutta la regione ad annunciarlo acquaroli appunto nel corso di questo incontro ha detto siccome i 76 milioni di euro riguarderanno tutta la regione ci aspettiamo che qualora non dovessero essere sufficienti per rimborsare tutti la priorità almeno venga data a quei 17 comuni della provincia di ancona e pesaro maggiormente colpiti questo è stato un intervento di dario perticaroli sindaco di arcevia nell'ambito di questo incontro a cui ha partecipato anche il presidente acquaroli vediamo anche qualche pagina della regione dove le parole di ciccioli sembra che gli costino il posto dell'assessorato ciccioli un passo indietro e ora acquaroli cerca un nome anconetano un passo indietro viene invitato ciccioli a fare un passo indietro volontario in merito alla sua candidatura ad assessore al posto di uno dei tre assessori che hanno dato dimissioni perché sono diventati deputati o senatori ebbene dopo la gaffe sulle vittime dell'alluvione il governatore oggi incontrerà il capogruppo di fratelli d'italia appunto e gli comunicherà che non sarà uno dei tre nuovi assessori di giunta per il posto rimasto vacante prende quota l'ipotesi di affidarlo a giacomo bugaro già consulente gratuito della regione in questo specchietto colorato vediamo che ci sono le frasi incriminate pronunciate da ciccioli ma quella che le sintetizza un po tutti e quelle tutte e quella che ha detto al posto sbagliato nel momento sbagliato riferendosi appunto alle vittime dell'alluvione una frase che ha suscitato la reazione che ha colpito la sensibilità dei parenti delle vittime infatti qua vediamo quello che dice il papà di mattia il bambino che purtroppo è deceduto con un grande dispiacere un grande strazio da parte di tutti i marchigiani ciccioli si muove come un elefante entrato in una cristalleria ha detto tiziano luconi appunto il papà del piccolo mattia da ciccioli paroli senza al contatto almeno o in una questione di sensibilità in questo articolo invece vediamo il lato umano di coloro che si presentano per la prima volta o si ripresentano in parlamento beh è una sensazione che lascia indubbiamente il segno una giornata di esordio per i 15 nostri parlamentari quelli che rappresentano la regione Marche abito made in Marche per Carloni la latini in total black insomma ci si cura anche per quanto riguarda l'immagine e poi si provano delle emozioni perché entrare nell'aula della camera dove ieri si sono riuniti il senato dove scusate entrate nell'aula del senato dove ieri c'è stata appunto l'elezione del presidente oggi toccherà alla camera desta una certa emozione per la prima volta alla camera anche il leghista Mirco Carloni ho stralciato questa frase da questo articolo Mirco Carloni abito e cravatta blu rigorosamente made in Marche che unisce soddisfazione ed eccitazione per me si corona un sogno ha detto iniziato da quando appena diciottenne nel 99 sono stato eletto consigliere comunale a Pesaro beh io direi a Fano insomma perché è stato consigliere comunale di Fano vabbè e poi ci sono anche altre esternazioni da parte dei nuovi parlamentari passiamo a Pesaro passiamo a Pesaro perché vediamo che era distribuisce i suoi dividendi e sono dividendi sostanziosi era e gli enti soci vanno all'incasso verranno distribuiti circa 9 milioni di euro Marche Multiservizi prevede oggi lo stacco della cedola del dividendo metà risorse andranno a Bologna perché era ovviamente è una società privata anche se è costituita da molti enti pubblici tv roli nel territorio restano 70 milioni ha detto ma vediamo un attimo vediamo facciamo chiarezza l'utile conseguito da era da Marche Multiservizi è di 13,5 milioni di euro e di questi ovviamente i dividendi vengono un po' distribuiti vengono dati un po' a era un po' ai comuni che fanno parte di Marche Multiservizi la cifra esatta è di 8 milioni 795 mila 800 euro distribuiti con il dividendo 4 milioni e 100 mila vanno ad era che è il colosso quotato in borsa 2 milioni e 200 mila sono incassati dal comune di Pesaro 762 mila euro li percepisce la provincia quasi 354 mila euro vengono accreditati al comune di Urbino e oltre 168 mila euro arriveranno all'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro il resto va agli altri 51 soci pubblici ultraminoritari come l'Unione Montana del Catria e del Nerone con 0,00068% delle azioni il che incassa soltanto 60 euro comunque ci sono anche i privati che avranno il loro tornaconto è un utile sostanzioso quello di Marche Multiservizi peccato che buona parte se ne va in un'altra regione appunto Conera che se le prende e le porta a Bologna esercenti e ristoratori in pressing fanno spostare le nuove eco-isole ebbene quando c'è una novità per quanto riguarda un servizio importante come quello dei rifiuti ci sono sempre i contenti e gli scontenti ebbene destano utili prospettive i cassonetti intelligenti a Pesaro ma c'è anche chi non è contento per la loro posizione e quindi ci sono problemi per accontentare un po' tutti da via delle contramine i cassonetti sono stati collocati in via Borgomozzo perché in via delle contramine non andavano bene e quindi c'è stato anche questo spostamento e poi oggi è il giorno della chiusura della strada Carloni è il D-Day della chiusura per via Fratti scatta la prova del traffico una partenza soft al momento per il weekend ricalibrato il semaforo è predisposto alle segnalazioni sulla carta durerà fino a febbraio via Fratti alla vigilia della chiusura di strada Carloni che durerà quattro mesi è libera e tirata lucido per questo provvedimento non ci sono più i ristringimenti non ci sono più gli operai al lavoro ebbè il lavoro di manutenzione è finito e ora c'è il cantiere per la realizzazione della ciclabile insomma qualche disagio per qualche mese e poi tutto dovrebbe migliorare e caro Bollette per quanto riguarda la provincia e la gestione delle scuole superiori caro Bollette le scuole sono a un bivio e la provincia convoca il consiglio bisogna decidere cosa fare perché i soldi non sono sufficienti per pagare gli aumenti delle bollette della luce ci sono soldi fino al mese di dicembre e poi si vedrà dice Giuseppe Paolini il piano dei tagli necessari da prevedere in bilancio uscirà questa mattina dal consiglio provinciale convocato appunto dal presidente Paolini il pressing è che lo Stato deve intervenire per aiutare la provincia non ha sufficienti soldi quelli che ha provengono dallo Stato oppure dalla tassa sulle automobili sull'imposta della immatricolazione delle auto e quindi non ha altre entrate e con quelli bisogna fare i conti Palazzo Perticari porte aperte ma soltanto su prenotazione è la bella novità che il FAI presenta in occasione delle giornate di autunno a Pesaro domani visite guidate al complesso restaurato dalle 10 alle 18 grazie appunto al FAI occorre prenotarsi e poi vediamo che qui c'è stata una sentenza a favore dei Novax Prof Novax se sospesi ma in malattia lo stipendio dovrà essere pagato il Tribunale accoglie tre ricorsi per tre rispettive persone che li hanno fatti per quanto riguarda il pagamento dello stipendio nel periodo in cui non hanno potuto esercitare il loro lavoro docenti sospesi perché non vaccinati il Tribunale ha accolto tre ricorsi contro la sospensione di docenti non vaccinati e il Ministero gli dovrà pagare anche gli stipendi persi il caso risale al periodo pandemico i tre docenti pesaresi di scuole elementari e medie erano in malattia non stavano lavorando ma non avevano comunque intenzione di vaccinarsi come stabilito dal Ministero della Salute insomma quel provvedimento che gli è stato dato con la revoca dello stipendio viene giudicato illegittimo e quindi dovrà essere risarcito a questo punto diamo un'occhiata anche al resto del Carlino dove abbiamo una apertura quantomeno originale intitoliamo una via a Corrado grande fanese Corrado Corrado Mantoni un personaggio televisivo indimenticabile ed indimenticato non era fanese lui era nato a Roma ma aveva dei genitori fanesi lo vediamo qui in una fotografia quando era giovanissimo la fotografia classica è stata pubblicata tante volte Corrado giovinetto acquista un gelato dal gelataio Falcioni e qua invece lo vediamo nella sua fisionomia abituale era dicevo figlio di genitori fanesi padre il padre si chiamava primo era tipografo e pubblicista mentre la madre Olga era maestra di scuola elementare figlia della fornaia Maria Spadoni dal profondo legame che annuisce Corrado a Fano c'è solo appunto questa immagine fotografica c'è anche qualche ricordo di qualche cittadino sono un po' ricordi tra la storia e ricordo personale insomma una iniziativa interessante quella perché Corrado al pari di tanti altri artisti vediamo per esempio Valeria Moriconi è stata titolata una via della città di Fano ha questi addentellati e quindi era un frequentatore della nostra città e con la simpatia che destava ha avuto un grande merito anche per il diciamo così il passatempo degli italiani nel corso appunto del secolo scorso è stato un personaggio significativo ed ora passiamo alla cronaca un tunisino vieta alla moglie un corso d'italiano e va a processo ma non era solo questa l'angheria che l'uomo faceva alla moglie un trentenne si è presentato davanti al giudice per lesioni e maltrattamenti in famiglia non voleva che la donna avesse contatti con altre persone ed è l'ennesimo trattamento di violenza nei confronti di un uomo nei confronti della moglie purtroppo dobbiamo osservare che sono spesso persone che giungono dalla Tunisia dal Marocco insomma dove magari la cultura familiare è diversa dalla nostra l'uomo ad una posizione di forza che gli consente secondo appunto questa cultura questa tradizione di infierire sulla moglie e di imporre la sua volontà così non è dalle nostre parti e quindi i processi si sommano ai processi e poi vediamo che domenica è il giorno delle elezioni della carnevalesca l'abbiamo visto ieri in un articolo che riguardava appunto il procedimento delle elezioni sono 514 gli aventi diritto al voto ognuno dei quali potrà presentarsi alle urne con la delega di un solo altro iscritto dell'associazione ma insomma però voto o non voto gli eletti sono scontati perché c'è una sola lista e la lista si vota in blocco non c'è alternativa e quindi questa sarà un'ennesima prova di gestione da parte della Presidente Maria Flora Gianmarioli che già vanta un trascorso importante almeno per quanto riguarda quello che è stato fatto in questi ultimi tempi via risorgimento pronti per fine dicembre 88 i parcheggi gratuiti sono ripresi i lavori in questo parcheggio in prossimità del centro storico siamo nella zona del ponte Storto vicino al commissariato vicino al centro commerciale direzionale di via dell'Abbazia nei pressi dei passeggi questa è una zona importante una zona strategica dove le macchine potranno parcheggiare liberamente e c'è molta gente che attende con ansia la fruibilità di questa area di sosta che ora c'è però insomma è sconvolta da ora voglio dire ci sono i lavori ma prima c'era ugualmente ma era sconvolta da una situazione di superficie che era veramente intrattabile saranno pronti per fine dicembre gli 88 parcheggi a pettine gratuiti di via del risorgimento e questa è la bella notizia che ci dà oggi il resto del Carlino ad Urbino vediamo che l'Ateneo è sempre più vicino ai problemi dei ragazzi e si parla di integrazione proseguono le politiche per l'inclusività attivati 5 nuovi servizi alcuni dei quali progettati dai ricercatori dell'università si passa dalle attività formative a quelle logistiche per rendere la presenza degli studenti ad Urbino sempre più sempre più buona sempre più insomma decisamente all'altezza di quello che la città ducale può offrire l'ultima notizia è che a San Lorenzo 150 mila euro saranno investiti sulle strade lo dice il sindaco Davide Dell'Ondi che dice che è un lavoro molto importante su un asse di collegamento rilevante per il nostro territorio ebbene questa era l'ultima notizia io vi saluto e vi do appuntamento a domani alle ore 7 mentre per le notizie del giorno vi invito a seguire il TG di Fano TV Occhio alla Notizia questa sera alle ore 20 e 30 questo è tutto per il momento buona giornata risentirci a l'ultima notizia a l'ultima notizia l'ultima notizia Grazie a tutti.